Insieme nasce con un'idea positiva e propositiva, nel senso che noi stiamo attraversando un momento politico molto particolare caratterizzato dalla frammentazione, dalla disgregazione, dalla politica fatta contro qualcuno o contro qualcosa. Insieme nasce, e lo dice la parola stessa, per tentare di recuperare la capacità di proporre in positivo qualcosa, di cercare di aggregare, di unire piuttosto che di dividere. Ed è questa una caratteristica che ci proviene dalla nostra storia, la storia ulivista, la storia che ci ha consentito non solo di vincere l'elezione, ma ci ha consentito di costruire una coalizione strategica, programmatica, propositiva, che poi ha esaurito purtroppo la sua vita, la sua esistenza politica con quella crisi dell'autunno del 98. Noi non mettiamo insieme, come si sta dicendo, in questi ultimi tempi, anche suscitando delle ironie, tante gambe, la terza gamba, la quarta gamba. Magari sono gambe che si muovono sul terreno della politica senza molte idee. Qui abbiamo delle idee che vengono da lontano e che hanno l'ambizione di andare lontano. Grazie. Grazie.